Una delle cose che più mi lasciano perplesso su TikTok è la zuffa fra credenti, non credenti, atei eccetera eccetera. Una cosa che trovo abbastanza surreale, vedo gente che si ritiene appartenente al mondo scientifico che afferma solennemente che Dio non esiste, bisogna portare le prove anche per quello, e religiosi invece che cercano di affermare esattamente il contrario. Ecco, in entrambi i casi io penso che ci sia una via di mezzo che è quella che ritengo più razionale e più interessante che sia quella dell'agnosticismo, cioè nel senso che nessuno può veramente portare delle prove. Però io tutto questo ritengo invece importante che se una persona si sente bene a credere in Dio debba farlo, se una persona si sente bene a non credere in Dio non debba farlo. È una cosa però che andrebbe lasciata parecchio all'intimo, quindi uscendo anche dal proselitismo o da confronti che non porteranno mai a nulla. Ad oggi nessuno riesce ad avere prove che Dio non esiste, perché a chi si ritiene un uomo di scienza deve provarlo anche scientificamente che Dio non esiste, come al contempo chi invece ritiene che Dio esista e lo vuole imporre a qualcun altro che porti anch'esso delle prove, prove che non possono essere supposizioni. E fino ad oggi ho sentito parlare di Dio altri esseri umani che hanno parlato di Lui, non sono riuscito ad averci un contatto diretto. Se per Dio si intende quella figura, se poi si esce da lì e si entra in altre forme di divinazione, le cose potrebbero anche cambiare, ma insomma si rimane sempre su una situazione abbastanza mistificatrice della realtà. Ma detto questo, l'importante io ritengo che sia completamente la domanda e le domande siano completamente sbagliate, quindi si producono risposte sbagliate, oggi io credo che sia importante capire profondamente ciò che ci fa stare bene, ci fa stare felici, ci fa passare su questo passaggio sulla Terra nel modo migliore, quindi che ognuno scelga le credenze che più lo rendono felice e questo cerchi di non imporle a nessuno. Purtroppo noi esseri umani abbiamo una cavezza sola, unica e solida e pensiamo che la nostra interpretazione della realtà sia l'unica vera, reale e concreta. Abbiamo parecchia strada da fare e io credo che in questo una parte della scienza stia lavorando veramente bene nel dimostrarci quale sia la via e quanto l'osservatore abbia influenza sulla realtà che ci circonda. È un tema che lascio però a chi è molto più preparato di me, io faccio una riflessione umanistica sull'ateismo, agnosticismo e credenti. Vi lascio a questa micro clip. Sono atea nel senso appunto io non credo assolutamente in Dio, non credo nell'aldilà, non credo nell'anima, credo l'anima sia il nostro cervello. Agnostico è uno che ha dubbi, che non sa se Dio esiste, se non esiste e quindi un essere perfettamente razionale dovrebbe essere agnostico.